A trarre investimenti ed investitori nazionali ed internazionali per garantire nuove prospettive ai giovani ma anche per far sì che Bari possa rafforzare la sua posizione di settimo polo in tutta Italia. Questi i propositi del progetto Invest in Bari presentato a porta futuro nel cuore del capoluogo pugliese. Le imprese che hanno interesse a sviluppare anche secondo le nuove strategie, le nuove esigenze anche di innovazione tecnologica, qui nella provincia di Bari, nel comune di Bari si è creato veramente un punto di eccellenza per attrarre nuovi investimenti e per potenziare le imprese esistenti. One Stop Shop Invest in Bari è un progetto che nasce in accordo di collaborazione istituzionale tra la città metropolitana di Bari e l'ente nazionale microcredito. Nasce con lo scopo di assumere un ruolo di facilitatore locale e mediatore tra le imprese e gli investitori che vogliono investire a Bari sia regionali, nazionali che internazionali con le istituzioni e tutti i soggetti tecnici che sono coinvolti nel processo di creazione e accoglienza di una nuova impresa. Siamo già diventati un punto di riferimento importante nel settore dell'IT con 14 aziende e una capacità assunzionale di circa 5.000 persone. Adesso proviamo a rivolgerci anche al mercato estero, alla possibilità di far arrivare qui investitori e far crescere magari le aziende che già ci sono attraverso una partnership con gli attori istituzionali, nazionali e regionali per offrire fonti di finanziamento, insediamenti all'interno dell'area di sviluppo industriale, progetti di ricerca con l'Università di Bari, con il Politecnico di Bari. Grazie.